Buongiorno Gobbi e buongiorno Gobbe bentornati sul canale di Gobbo Romano allora, allora, voglio analizzare un po' il mercato della Juventus e farei una provocazione perché mi sono fatto un po' dei conti a oggi per me quello che è stato fatto è veramente buono ma è soltanto il 30% di quello che dovrà essere fatto da qui nei prossimi 20 giorni di mercato allora, mi devo ricordare due cose prima uno che sto ristampando le magliette quindi chi è interessato mi contatta in privato su Instagram per informazioni, per le maglie poi, altra cosa, devo fare una precisazione riguardo la storia di Pietro Riccardi Pietro Riccardi ieri mi ha sbloccato su Instagram mi ha mandato un messaggio, si è scusato, si è preso la colpa ha ammesso l'errore dicendo che sia lo scorso anno che quest'anno si è appropriato facendo passare per sue delle notizie che sue non erano mi ha chiesto scusa ho pubblicato il suo messaggio sulle storie di Instagram e per chi non ha Instagram giustamente ho fatto un video qua parlando di Pietro Riccardi raccontando l'errore che ha fatto oggi faccio un video giustamente per dire che si è scusato e ha ammesso l'errore e per me la storia finisce qua e si va avanti tranquillamente anzi, devo dire, gli fa onore aver riconosciuto l'errore e soprattutto essersi scusato quindi la situazione è ampiamente chiusa se parlate di Juve perché è quello per cui voi state dall'altra parte del video e mi ascoltate prima facciamo altre due precisazioni riguardo il mercato di due giocatori una è su Zagnolo perché a me mi fanno rite perché adesso parlano tutti del Zagnolo tutti, tutti gente che Zagnolo non sapeva nemmeno dove giocava gente che non sapeva nemmeno che Zagnolo era un giocatore di calcio adesso hanno solo Zagnolo la bocca io so cinque mesi che seguo la trattativa di Zagnolo dall'andamento e l'esito dei bookmaker inglesi alle voci che mi aveva dato la talpa ai continui indizi e poi soprattutto il fatto che negli ultimi due mesi la Juve io sapevo che lavorava sotto traccia l'ho cominciato a dire quando io parlavo di questa cosa nessuno parlava di Zagnolo ma c'era gente che lo dava al Milan e gente che diceva che avrebbe rinnovato con la Roma adesso c'è gente addirittura che dice che Zagnolo ha rifiutato il Paris Saint Germain è un'invenzione o almeno a me non mi risulta gente che dice che la Juve ha offerto per Zagnolo ieri o l'altro ieri quando l'offerta della Juve risale a quasi 40 giorni fa è veramente divertente perché se uno come me che non fa il giornalista ma ha la fortuna soltanto di avere delle notizie riesce a sapere con largo margine rispetto a chi lo fa di lavoro e poi ci ricama sopra e dice talmente tante cavolate che poi spiazzano chi ascolta perché io vi farei vedere tutti i messaggi che ricevo su Instagram ogni giorno su articoli dei giornali su qualsiasi strattativa si inventano di tutto ragazzi uno che non sa le cose dovrebbe credere a tutto è far maricomio veramente al maricomio è vergognoso come è vergognosa la situazione Kostic i stessi giornalisti che erano gli stessi che parlavano di Di Maria lontano da Juve perché la Juve ha dato l'out a Di Maria oggi dicono che a Juve è lontana da Kostic quando la verità è un'altra quando Kostic è messo lì fermo perché c'è un problema la Juve vorrebbe pagarlo a rate non dando i 18 milioni di cash o in un'unica tranche all'Eintracht ma lo vorrebbe dilazionare e l'Eintracht non è d'accordo quindi si è fermata la trattativa ma non perché Kostic non sarà un giocatore da Juventus perché stanno cercando di trovare un accordo e invece perché si dice Kostic che c'è lontano dalla Juve poi magari l'Eintracht non vorrà i soldi e la Juve dice no a me non me lo fai a rate io non me lo prendo ma non credo che sia così però purtroppo se scrivono cose inesatte e questo è veramente 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 bello io continuo però a dire la mia e fino adesso ho sempre avuto ragione e continuerò a sperare di raccontarvi il mercato per quello che è non per quello che vogliono far passare detto questo parlo del mio pensiero sul mercato della Juventus e questo è un mio pensiero analizzando i fatti per quelli che io conosco e che a voi metto a disposizione tramite la fonte per fare una rosa di calcio competitiva servono 25 giocatori bravi noi abbiamo tre portieri quindi ci mancano 22 giocatori di movimento 22 giocatori di movimento per completare una rosa per affrontare una stagione calcistica densa di impegni noi sicuri della vecchia rosa ne abbiamo nove Bonucci, Danilo, De Sciglio, Locatelli, Zaccaria, Mekenni, Vlauic e Chiesa sono otto il nono è Alessandro però per forza di cose devo mettere un punto interrogativo perché Alessandro ha rifiutato molte destinazioni perché può andare a scadenza il prossimo anno e magari si vocifera che la dirigenza potrebbe metterlo fuori dalla lista Champions potrebbe metterlo fuori rosa però noi vogliamo visto che non abbiamo non abbiamo la sicurezza di questo lo metto nei giocatori che rimangono quindi abbiamo nove giocatori di movimento a questi due a questi nove ci aggiungiamo due giocatori che sono due acquisti già fatti Pogba e Di Maria che credo non c'ho la certezza ma sentendo un po' di risposto perché ormai non è diventato importante quando prendi il giocatore come lo prendi e se arriva quando firma e quando c'è la presentazione perché io anche questo giornalmente ho tra i 32 e i 514 messaggi perché per la gente non è diventato importante quando prendi il giocatore come lo prendi e se lo prendi quando arriva e quando ci stanno le visite e quando firma ma sti cazzi ma basta che sta al campo e gioca a pallone per me può firmare pure l'ultimo giorno e presentarlo dopo che ha giocato tre partite basta che arrivano raga non è questo l'importante del mercato l'importante del mercato è creare una squadra funzionale per poi andar in campo e spaccare i passelotti però se va fuori detesta perché se deve capire che maglietta c'ha il giocatore quando firma quando arriva se ha fatto il post se l'ha fatto in bianco e nero se l'ha fatto a colori i social stanno a massacrare cioè stanno proprio mandano fuori di testa la gente e confondono le idee io cerco sempre vivendo in un mondo social che però non mi rispecchia cerco sempre di rimanerne un po' fuori e andà dritto va a strada mia e mirà alle cose che poi sono quelle di campo sono quelle utili quindi siamo 9 più 2 11 ho lasciato un po' di gente fuori ma è calcolata fatemi finire il ragionamento qui ci dobbiamo aggiungere i giovani però questi 11 di movimento ai tre portieri ci dobbiamo aggiungere i giovani ce ne abbiamo tanti deve interagire e non sappiamo che fine fanno quindi li metto fuori fagioli potrebbero andare in prestito rovella e ranocchia potrebbero far parte dello scambio quindi per momento li mettiamo fuori i tre giovani che rimangono quasi sicuramente perché c'ha addettata al passo gatti miretti e sulle 11 di movimento e tre sono 14 14 di movimento doma arriva 22 ragazzi mancano 8 giocatori tanta roba 8 giocatori perché ricordamone che oggi a Torino si è presentata un po' di gente e il 10 tra il 10 e il 13 si andrà a completare a completare tutto il rientro di tutti i giocatori quindi fra una settimana e noi c'è i 14 giocatori di movimento sono un po' pochini qui c'è stata tanta gente in bilico c'è uno che è Ramsey che rescinderà c'è stanno 4 sul piede di partenza che so Art Delit Rabiot e Pellegrini e c'è stanno 3 in bilico che so Quadrato Lugani e Kinn diciamo che tutti non potranno partire e voglio dire che desti 6 8 7 escluso Ramsey 2 rimarranno e voglio mettere Quadrato e Lugani perché per me per me personalmente sono i più probabili che rimangono arriviamo a 16 giocatori di movimento e 3 portieri mancano sempre altri 6 giocatori per arrivare a 25 perché 16 più 3 fa 19 mancano sempre 6 giocatori a sti 6 giocatori che mancano tappano tappano altri 2 buchi che so Kostic e Zagnolo arriviamo a 18 giocatori di movimento e mancano 4 ragazzi sti 4 che mancano 2 devono essere i sostituti della quasi certa cessione dell'elite perché dopo che andato Iachiellini se va via pure dell'elite con Bonucci a 35 anni ci servono due centrali difensivi e su questo penso che siamo d'accordo tutti pure Kid De Caccio non ce capisce un cazzo la Juve era individuati per quello che so io su Bremer e Koulibaly per quello che si dice un po' in giro ci potrebbe essere Kim Pembe Gabriel a me non mi risulta e io dico Bremer e Koulibaly ma ancora altri 2 giocatori poi tappano che c'è Mister X che a Tarpa non ci ha detto ma non capiamo chi è e poi un altro potrebbe essere un centrocampista dei nomi fatti che possa Paretes Fabia Ruiz Giorginio che si è proposto nuovamente alla Juventus tutto questo deve accadere in 10-15 giorni e deve andare tutto preciso perché se no restiamo in mezzo alla merda perché è veramente difficile ragazzi io non sto criticando la dirigenza ma mi sto facendo un calcolo della difficoltà che la Juventus nei prossimi 10 giorni 15 deve affrontare a livello di mercato deve far fronte almeno a 10 trattative tra entrata e uscita deve tenere il piede in due staffe perché deve cedere delitto e comprare la gente deve essere sicuro che una volta che ha ceduto delitto c'ha la sicurezza di prendere quei due e se uno di quei due soppa ci deve avere un piano alternativo io detto fra me e voi e non siamo tanti ma cominciamo a essere tanti non vorrei essere un dirigente da Juve in questo momento non vorrei essere un dirigente da Juve perché la linea dell'errore è veramente sottile perché questo lavoro per poter garantire a Max Allegri di evitare una falsa partenza come fu lo scorso anno con una rosa incompleta soprattutto con la cessione di Ronaldo a fine mercato non prontamente sostituito perché non c'è stata la possibilità ma si è andata a ripiegare su un bidone da 40 milioni d'euro che si chiama Moise Ken e questo potrebbe accadere anche con The Lit quindi io mi sto a fare non sto criticando la dirigenza capitemi bene ma ho fatto un po' mente locale e quello che deve essere fatto in questi 15 giorni è un lavoro perfetto e se accadrà tutto quello che la nostra talpa ci ha detto e che ha previsto e a dirigenza che batte le mani sul mercato perché questo lavoro questo lavoro è tipo mission impossible è mission impossible perché è veramente veramente difficile provate a ragionare e a pensare tutto quello che io vi ho detto e tutto quello che dovrà essere fatto io credo che da oggi perché c'è incontro con Pinto per Zagnor e l'eventuale cessione di Arthur al 15-16 luglio quindi parliamo di 10-12 giorni la Juventus deve sparare tutti i colpi per mettere a disposizione di Allegri una rosa quasi completa se nei prossimi giorni la Juve non metterà sotto contratto almeno due o tre giocatori gli abito difficile abito difficile perché poi dopo gli vai a prendere a fine mercato non fai la preparazione c'è la tournée e ti trovi al 14 agosto 15 scusate quando iniziare al campionato veramente veramente in difficoltà fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi questa è un'osservazione che facevo ieri e soprattutto stanotta però voglio sapere soprattutto la vostra e magari so io quello che esagera a me mi sembra molto ma molto ma molto dura il lavoro della nostra direggenza fin a fine forza i volti a